per essere sempre informato sulle nostre trasmissioni radiofoniche iscriviti al gruppo facebook di radio ballerina one va ora in onda ballo quotidiano tutto il ballo in pochi minuti rubrica radiofonica giornaliera a cura di salve a tutti buon venerdì e buon fine settimana pronti con la nuova puntata di ballo quotidiano abbiamo qualche novità questa è radio radio ballerina one la radio è voce quindi non possiamo andare in video signori la radio è voce musica e fantasia uno ascolta e mentre ascolta può fare delle altre cose quindi essendo radio abbiamo voluto recuperare su questa pagina la radio quindi mi ascolterete qualche immagine di supporto così che da qualche informazione di da scalica poi 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 la nostra conduzione televisiva sarà il giovedì durante canale danza ma è la radio che si vede in giro è una radio un po' ibrida così mista praticamente è televisione perché quando c'è un conduttore davanti una telecamera e dicono che è radio quella è conduzione televisiva è la vecchia teleradio degli anni settanta che inventammo noi a metà degli anni settanta che il prossimo anno compieremo 50 anni perché le radio private nacquero nel 1975 ufficialmente quando venne abrogato il monopolio radio televisivo della rai e quindi è stata data la possibilità anche ai privati di poter trasmettere e noi siamo stati i primi eravamo giovanotti eravamo pieni di entusiasmo abbiamo subito cominciato a costruire distribuire trasmettitori con apparecchi militari in disuso riconvertiti modificati grazie alle nostre conoscenze di radiotecnici andavamo tutti a scuola di radiotecnica di elettronica anche signori allora pronti a parlare di ballo e fine settimana di pasqua e allora il ballo viene un po' meno diverse sale da ballo durante il fine settimana di pasqua non aprono i battenti poi è chiaro che molte persone ne approfittano per fare il weekend weekend anche lungo visto che poi c'è la pasquetta la pasquetta si va sui prati da qualche parte si balla e si canta e si suona e anche a noi di canale danza ci hanno invitato per una grande festa sui prati vediamo se abbiamo la possibilità di andare e magari portare qualche telecamera salute permettendo perché con questi sbalzi di temperatura con questa umidità di questi giorni piovosi ci siamo un po' bagnati ci siamo un po' affaticati non siamo più giovani e quindi ne risentiamo senz'altro comunque per parlare di ballo in questa puntata non volevo assillarvi dicendovi che adesso l'insegnante di ballo deve mettersi regola una marea di documenti una marea di adempimenti fiscali da compiere ma ne parleremo dopo pasqua corso di formazione su come gestire le associazioni sportive di danza e anche per dare una mano ai maestri che adesso si chiamano istruttori di danza e allora quando è così quando è diventato difficile insegnare ballo bisogna tornare come negli anni 60 si va in una sala da ballo in un posto privato in qualsivoglia posto dove c'è un po' di musica un po' di persone e si comincia a ballare seguendo quello che fanno gli altri ballando con qualcuno ballando dietro le persone che già magari sanno fare qualche passo tanto poi alla fine per imparare i balli di gruppo non serve la scuola di danza alla fine sono gli stessi passi giri aperture e chiusure incroci qualche movimento delle braccia sempre uguali qualche volta io ho visto anche dei balletti che non hanno assolutamente movimenti delle braccia io credo che invece le braccia facciano parte del corpo e devono ballare insieme al corpo ballare quasi da mutilati direi io così tra virgolette non mi sembra molto estetico come balletto però si può fare tutto tutto si può fare nella vita poi è chiaro che anche l'occhio vuole la sua parte signori siamo anche un passo dall'arrivo dell'ora legale quindi occorrerà sabato notte mentre siamo in balera quelle poche ballere aperte bisognerà mettere le lancette dell'orologio avanti perché le lancette ormai tutto elettronico è difficile trovare un orologio a lancette noi per esempio nello studio centrale ne abbiamo uno molto grande qui e vi posso dire sembra che il tempo trascorra più lentamente sull'orologio a lancette questa è perlomeno una sensazione pertanto dormiremo un'ora di meno nella domenica di pasqua e quindi ci alzeremo più tardi poi andremo a mangiare cena chi si troverà con parenti amici conoscenti che andrà magari in qualche paese qua vicino o più lontano a sistemare le seconde case e fra tutto questo poi magari ci sono delle persone che tutto questo non lo possono fare perché non godono buona salute io voglio rivolgermi quest'anno proprio a queste persone che non possono godersi questo momento gli auguro veramente a tutti a tutti e tutti di cuore una pronta guarigione chiudo la breve trasmissione di oggi che vuole essere solamente un breve flash informativo magari un modo solamente per sentirci e per augurarci una buona pasqua serena commentando il video appello che ho proposto qualche giorno fa nei canali social la ricerca affannosa di alcuni insegnanti di danza che vogliono venire in televisione a presentare a spiegare dei balletti di gruppo questo perché vogliamo riprendere il nuovo ciclo di lezioni di ballo sono tanti maestri coreografi dal 1998 quando non esisteva youtube che il mercoledì sera proprio sulla televisione appassionavano tutti i telespettatori e dicevano vediamo questo mercoledì che balletto nuovo c'è eravamo veramente un grande punto di riferimento abbiamo cominciato con cinzia con marco anzellini con pina spada con alessia con dino vittoria poi la grande compianta ines al farone altre coreografe un po meteore che comunque si sono alternate veronica armando roberto insomma sono diversi coloro che hanno fatto grande il ballo in tv e così anche per la puntata di oggi l'appello rimane sempre lo stesso cerchiamo un insegnante di danza uomo donna non importa l'importante che voglia venire in televisione che sappia spiegare i balletti poi per la regia televisiva non preoccupatevi ci sono io come regista che davanti le telecamere vi do un'istruzione vi do tutte quelle piccole dritte per creare una buona conduzione e insomma signori un conto è andare su youtube avere i cliccaggi che poi non portano nulla e un conto è andare sulla vecchia e classica televisione dove magari non si sa chi guarda la televisione la può guardare un personaggio importante e la può guardare l'ultima signora immobile disabile che non può muoversi che però guarda la televisione a noi come ballo in tv più che social dove dobbiamo fare a sportellate con tutti i nuovi sia insegnanti sia altri media di ultima generazione e noi invece ancora campiamo di rendita con il famoso ballo in tv colleghi maestri vi aspetto contattatemi a questo numero 327 6156336 un bel provino e poi ci andiamo a divertire in televisione insomma io questa possibilità di farvi diventare dei coreografi molto notori molto conosciuti attraverso il ballo in tv pensateci un attimo e proprio proprio infine come ultima cosa stiamo per riprendere sia in versione audio che in versione video il tg dance le ultime notizie dal mondo del ballo il nostro classico telegiornale che vi informa su quello che accade sia sotto ogni profilo dal punto di vista delle competizioni delle problematiche fiscali tutto quello che serve per essere informati sul ballo e poi ovviamente gli approfondimenti attraverso questa rubrica che trovate nei social basta scrivere nei motori di ricerca ballo quotidiano ballo e radio canale danza radio ballerina insomma le parole per ricercare le nostre trasmissioni non vi mancano certo con questo vi saluto vi ringrazio veramente a tutti voi cari radio telespettatori vi auguro veramente una pasqua tranquilla e serena ci sentiamo presto sempre con ballo quotidiano e con il ballo in tv alla prossima abbiamo trasmesso ballo quotidiano tutto il ballo in pochi minuti rubrica radiofonica giornaliera a cura di toni mantineo per contattare la redazione di radio ballerina one invia messaggi al numero 333 30 32 222 utilizzando whatsapp collineavoletta iscriviti al nostro canale giudice iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale giudice ai e attraverso pi app attraverso vi Grazie a tutti